Sempre nella parte prima e sempre in riferimento al trattato relativo all'essenza di Dio, oggi affrontiamo un nuovo argomento che è la volontà di Dio. E' la questione 19. Scrive Tommaso, dopo lo studio di ciò che si riferisce alla scienza divina, bisogna investigare ciò che riguarda la divina volontà. Prima c'è la scienza, poi c'è la volontà. Questo è così anche per gli esseri umani. Prima devo conoscere, poi faccio una scelta. Chi fa una scelta senza conoscere, ha ben poco di vita, ha ben poco di umano, ha ben poco di consapevolezza. Non punta alla realizzazione del proprio essere, all'attualizzazione della propria conoscenza, del proprio intelletto, che lo contraddistingue dagli altri animali. Il fatto che la questione 19, cani miei, è piuttosto complessa. Ci sono addirittura 12 articoli. Vediamo di affrontare i primi. Sembra che in Dio non ci sia volontà. Sembra. D'altra parte la rivelazione con Romani 12.2 ci dice affinché possiate ravvisare qual è la volontà di Dio. Quindi Dio ha una volontà nella prospettiva della rivelazione. Ma noi vediamo che anche nella prospettiva della filosofia esoterica domista questa volontà in Dio può essere giustificata. sempre percorrendo delle strade che farò riferimento a quella conoscenza che abbiamo definito analogica. Dice Tommaso Gli esseri intelligenti hanno una inclinazione al bene appreso mediante una specie intelligibile. Io comprendo che qualcosa è bene cerco di realizzarlo. Prima però c'è la comprensione di questo bene attraverso la conoscenza intellettuale. In maniera che quando hanno questo bene vi si riposano. E quella pace, quella serenità che incontra Dante nel momento in cui può contemplare la divina presenza nell'ultimo canto del paradiso. Finalmente vengono meno tutti quei desideri tutte quelle tensioni. O finalmente nelle cose umane questo non avviene perché più si ha più si vorrebbe avere. Noi abbiamo una tendenza all'infinito e quindi chi vuole indirizzare la propria vita a un fine che è esclusivamente il fine del denaro continuerà a accumulare 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 molto spesso anche in modo scorretto e illegale ma non sarà mai felice come chi pone la sua felicità esclusivamente nei gioielli oppure nel lavoro oppure nei viaggi oppure 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 tutte queste cose sono di per sé buone ma non sono il fine ultimo per cui si può accumulare tutto quello che si vuole ma questo accumulo alla fine non dà quella pace quel riposo che dovrebbe dare al cuore una volta che il cuore ha raggiunto il suo fine quando questo bene non c'è viene ricercato questa duplice operazione appartiene alla volontà quindi in ogni essere che ha l'intelletto c'è la volontà nel momento in cui io conosco è evidente che conosco il bene e non posso far altro che amare questo bene è necessario dunque ammettere che in Dio vi è la volontà essendovi l'intelletto e come la sua intellezione è il suo essere così lo è il suo volere con l'identificazione poi faremo un commento a questo proposito nell'articolo successivo quindi intendere essere volere si identificano tuttavia questo pensiero è chiarito dopo ulteriormente nella spiegazione alle varie argomentazioni che vorrebbero sostenere che in Dio non esiste volontà dice la prima argomentazione ne abbiamo tre l'oggetto della volontà è il fine è il bene ora Dio non si può assegnare alcun fine perché allora Dio mancherebbe di qualcosa e perciò noi dovremmo pensare un Dio che potenzialmente tende a qualcosa per poter realizzare questa sua mancanza questa sua deficienza quindi non è possibile che Dio abbia una volontà cioè qualche cosa verso cui tendere chiarimento di Tommaso egli stesso è il fine di tutto quello che fa e lo è per essenza perché è buono per essenza come sopra si è dimostrato allora Dio non ha bisogno di uscire da sé utilizziamo la parola uscire sempre in modo analogico per cercare chissà quale bene il bene è lui quindi non può far altro che riposare in questa anche qui riposare in senso analogico riposare nella bontà che è in sé che è la sua essenza la volontà attenzione che non abbiamo ancora finito perché possono evidentemente sorgere ancora molti dubbi la volontà è un appetito appetito vuol dire un desiderio appetire cercare qualcosa l'appetito quando è ora di mangiare è il desiderio del pane del compagnatico ora l'appetito essendo tendenza verso una cosa non posseduta è indice di imperfezione la quale non può attribuirsi a Dio dunque in Dio non c'è volontà vediamo la seconda possibilità dove giustamente Tommaso chiarisce che la volontà non è soltanto appetere tendere ma è anche amore la volontà in noi appartiene alla parte appetitiva la quale sebbene derivi il suo nome dall'appetizione tuttavia non comporta solo l'atto di desiderare quello che non ha ma anche quello di amare ciò che ha e di dilettarsi in esso non solo ricercare non solo desiderare ma amare ciò che si ha guardate che questa riflessione che noi in questo caso riferiamo a Dio è anche questa qualcosa che tocca a noi da vicino perché molto spesso quando noi finalmente possediamo ciò che ci siamo posti come punto di riferimento come ricerca e come tensione poi non riusciamo ad amarla l'amore è completa pensate soltanto ai desideri sessuali che molto spesso proprio perché sono solo un desiderio egoistico una volta appagato finisce e quello non è amore non è amore e dunque non è un atto volitivo completo non è un atto volitivo che passa attraverso l'intellegere il capire ora attraverso questa seconda risposta comprendiamo che la volontà non si esaurisce nel desiderare ma si completa nell'amare e sotto questo aspetto Dio ama perfettamente se stesso contemplandosi e sotto tale aspetto si ammette in Dio la volontà la quale possiede sempre quel bene che ne è l'oggetto non essendo questo essenzialmente distinto da Dio quindi il bene l'essere l'intellegere divino la volontà l'oggetto di questa volontà chiariremo meglio nell'articolo successivo attraverso un commento che io ho estrapolato dalla mia summa teologica ci pone nella sicura affermazione che dice in Dio c'è anche volontà perché c'è amore per l'oggetto desiderato in questo caso per l'oggetto di cui Dio è in possesso cioè l'essere la cui essenza implica l'esistenza andiamo al terzo secondo il filosofo Aristotele continuo a ricordare per chi mi fa sempre notare ma sei filosofo Aristotele l'ho mai superato ma filosofo Aristotele allora era l'essenza ufficiale se Tommaso vivesse oggi nella coerenza della sua dottrina direbbe il secondo Einstein il secondo Galilei il secondo Newton per quanto riguarda la parte scientifica strettamente scientifica continuerebbe a dire secondo Aristotele per quanto riguarda la metafisica secondo il filosofo la volontà è un motore mosso noi quando vogliamo qualche cosa è perché siamo mossi da qualcosa ora Dio è il primo motore immobile non può essere mosso dunque Dio non ci può essere volontà vediamo cosa risponde Tommaso una volontà il cui oggetto principale è fuori di essa deve essere mossa da un altro è evidente se l'oggetto della volontà è al di fuori di me ma l'oggetto della volontà divina è la sua stessa bontà che si immedesima con la sua essenza la sua essenza è essenzialmente bene è vita e quindi non può essere mossa da altra cosa ma solo da se stessa secondo quel modo di parlare muovere in modo analogico per cui intendere e volere sono detti in movimento se vogliamo definirle in movimento senza una prospettiva e con termini utilizzati non in senso univo come analogico ed è in questo senso Platone che ha detto che il primo motore muove se stesso muove in senso analogico insisto eh articolo 2 videtur che Dio oltre se stesso non voglia altre cose questo è più complicato eh infatti abbiamo quattro argomentazioni abbiate pazienza lo so che qualcuno mi ha fatto notare che bisognerebbe procedere dalle argomentazioni ma verrebbe è già lungo questo lavoro questa riflessione non finiamo più io parto dal pensiero di Tommaso innanzitutto l'apostolo 1 tessalonicesi 4 3 ci dice questa è la volontà di Dio la santificazione vostra quindi quindi è fuori dal videtur che Dio oltre se stesso non voglia altre cose no vuole la santificazione dei suoi figli vuole la santificazione di questo mondo rientra nella natura della volontà il comunicare agli altri nella misura possibile il bene posseduto lo diceva Platone il compito del filosofo qual è dopo aver contemplato le idee non può rimanere là indifferente all'ignoranza di questo mondo deve scendere deve aiutare gli altri a passare attraverso il suo stesso percorso a seguire quell'itinerario di perfezione se lo fa l'uomo non dovrebbe farlo Dio quindi e ciò appartiene principalmente alla volontà divina che cosa il comunicare agli altri il bene posseduto papà e mamma quando sono dei genitori sono insomma papà e mamma ma non sono semplicemente dei genitori fittizi cercano di comunicare ai propri figli il bene che possiedono purtroppo qualcuno riduce il bene a del denaro alla playstation al bel vestito al portafoglio firmato chi invece è sbaglia ma lì c'è un errore di intellezione c'è il fatto di non vivere pienamente la propria vita c'è il fatto di farsi condizionare da un senso comune c'è il fatto di non essere sufficientemente autonomi l'abbiamo visto quando abbiamo parlato della vita ma anche pur errando pensando che la cosa più importante sia avere un bel conto in banca nel momento in cui dei genitori pensano che a quello sia il bene cercano di comunicare ai propri figli alle persone che amano quindi se le cose in quanto sono perfette comunicano ad altri la propria bontà a maggior ragione conviene alla volontà divina di partecipare ad altri analogicamente naturalmente sempre da un punto di vista analogico nella misura del possibile il possibile la libertà dell'uomo il proprio bene perché troveremo anche questo limite che vuole esaltare la libertà dell'uomo che è immagine di Dio e visto che Dio è libero e nulla lo può in qualche modo definire ecco in questa similitudine a Dio Dio rispetta la libertà dell'uomo ma nel limite del possibile cerca di far partecipare i propri figli al bene che di cui lui stesso contempla comprende e vuole vediamo vediamo le argomentazioni la volizione divina è l'essere stesso di Dio l'abbiamo detto prima ora Dio non è altra cosa che se stesso abbiamo detto che volere è questa contemplazione questo amore che Dio ha su di sé e allora allora non può volere altro vediamo un po' sebbene l'abolizione di Dio si identifiche realmente col suo essere tuttavia se ne distingue concettualmente quando infatti io dico Dio è non esprimo una relazione di Dio con un termine come quando Dio vuole per conseguenza sebbene Dio non sia qualche cosa di diverso da sé eppure vuole qualche cosa all'infuori di sé perché Dio si pone in rapporto con le sue creature e l'abbiamo detto prima nel limite del possibile vuole la santificazione delle creature per il loro bene 2 se dunque Dio volesse qualche altra cosa oltre a sé stesso la sua volontà sarebbe mossa da un oggetto distinto da lui stesso sappiamo che questo non è possibile nelle cose che vogliamo per un fine tutta la ragione del volere è il fine e questo muove la volontà qui fa l'esempio della medicina amara io bevo la medicina amara per quale fine per il fine della sanità no? quindi non mi faccio trasportare il mio fine non è la medicina amara ma il mio fine è poter guarire Dio non vuole le cose distinte da sé Dio non vuole la medicina in sé vuole il bene della vuole dunque Dio non vuole la cosa in sé ma vuole il bene delle sue creature come noi non vogliamo la medicina amara in sé ma il fine qual è? quello di guarire quindi Dio non vuole le cose distinte da sé se non per il fine che è la sua bontà ritorniamo a mente in quel principio che è importante come dicemmo non ne viene che la sua volontà sia mossa da qualche cosa di estraneo ma solo dalla sua bontà Dio è mosso dalla sua bontà chiaro che l'esempio della salute attraverso la medicina amara può in qualche modo scricchiolare perché la salute è una cosa che facilmente noi perdiamo è un attributo nostro è una nostra qualità la accogliamo attraverso una medicina che può essere sgradita però il procedimento è analogo la sanità è un attributo intrinseco del mio ente quindi io ricerco qualcosa che è intrinsecomente legato al mio ente un po' come Dio che tutti i similitudini sono in prospettiva analogica come Dio che cerca il bene delle sue creature puntando sulla sua bontà ricerca alla fin dei conti la sua bontà non ricerca qualcosa che sia al di fuori di se stesso qui ho riportato il commento che chiarisce ancora maggiormente questo pensiero tutti gli attributi di Dio sono una medesima semplicissima realtà in lui abbiamo visto che a questo il mondo del molteplice in lui c'è l'unità sono il suo essere la deità la deità in se stessa e a noi sconosciuta di cui non ne abbiamo che una conoscenza imperfetta noi non contempliamo la deità divina noi possiamo conoscerli in modo imperfetto solo attraverso una prospettiva analogica e una prospettiva che riflette sugli effetti della sua creazione desunta dalle creature che sono sui effetti in speculo come uno specchio in enigma come un enigma i nostri concetti riflettono la molteplicità degli effetti delle manifestazioni della deità nelle creature sono molteplici e mirano a riferire la stessa realtà divina in sé strettamente una e semplicissima ma ricchissima della sua misteriosa rimane il mistero non è che con questa teologia noi abbiamo compreso cos'è Dio il mistero rimane se io non posso contemplare direttamente Dio con i vocaboli con un procedimento intellettivo ci posso avvicinare ma non posso comprendere abbiamo già detto su questo comprendere comprendere come fa il segmento comprendere una realtà non è possibile i nostri concetti perciò non sono identici come concetti pur riferendosi alla stessa realtà semplice e nefabile e in termini che li esprimono non sono sinonimi non siamo una provestettiva di equivocità la molteplicità dei concetti è un modo il nostro modo il modo analogico di avvicinare intellettualmente un po' più la Deità trascendente il solo modo possibile a noi creature prima di essere elevate alla visione beatifica era prospettiva analogica cioè cosa spiega qui il commentatore di cui io ho portato il pensiero e le parole che potrebbe una risposta di questo genere non essere gradita o non essere sufficientemente persuasiva ma tutto ciò è naturale perché se no noi avremmo la possibilità di cogliere Dio nella sua essenza noi abbiamo già detto e qui l'abbiamo definito nella questione 13 articolo 4 che la nostra conoscenza è una conoscenza che si avvicina perfettibile ma non perfetta che si avvicina può migliorare ma dobbiamo sempre renderci conto che noi ci troviamo nella pluralità dove l'intelletto è una cosa e la volontà è un'altra la vita è un'altra ancora in Dio tutto questo si unifica e si identifica in ogni caso Dio non ha bisogno di altro di un movimento esterno per puntare sul bene delle sue creature perché il bene delle sue creature non è altro che se stesso andiamo al terzo una volontà alla quale basta l'oggetto che vuole non va in cerca di altro quindi Dio dovendo bastare se stesso non dovrebbe andare a cercare di altro e quindi dovrebbe essere valido il videitolo Dio oltre a se stesso non vuole altro vediamo qual è la risposta dunque dal fatto che alla volontà divina basta la sua bontà non ne segue che non voglia altro ma che altro non voglia se non a motivo della sua bontà se torniamo al discorso di prima volere altro e in questo caso il bene delle sue creature ma sempre con l'occhio riferito alla bontà intrisseca presente in Dio non vuole altro assolutamente non vuole altro vuole la bontà vuole il bene di cui questa essenza che implica l'esistenza vive e vuole in questa bontà coinvolgere tutte le creature come ripeto per l'ultima volta io non bevo la medicina amara perché voglio qualche cos'altro ma voglio semplicemente riacquistare la salute che è un attributo specifico intrisseco del mio ente del mio essere uomo andiamo all'ultimo tanti sono gli acchi della volontà quanti sono gli oggetti voluti se dunque Dio oltre ad avere se stesso come oggetto il suo volere avesse anche altre cose l'atto della sua volontà sarebbe molteplici per conseguenza anche il suo essere che si identifica con il suo volere ma la risposta è sempre la stessa e la vediamo qui come l'atto dell'intelletto divino è uno perché conosce cose volteplici un solo principio l'atto dell'intelletto divino è uno l'intelletto divino è uno solo e così esso si può identificare con l'essere può identificarsi con la sua volontà così uno è semplice il divino volere perché non ha per oggetto una moltitudine di cose se non per un unico motivo tutte le cose non sono l'oggetto tutte le cose sono subordinate a quel file ultimo che è il bene ed è il file per cui tutti gli esseri dovrebbero operare in sintonia ed è la bontà è importante tutto questo perché è chiaro che poi è facile dire Dio è amore sì ma come ci arrivi come ci arrivi si arriva proprio passo dopo passo se si vuole procedere in una prospettiva razionale allo stesso tempo seguendo la rivelazione in questo modo e Tommaso ci sta insegnando la strada